Bentrovati cari amiche e cari amici qui su Rubino News, il podcast di Rubino Immobiliare. Quest'oggi siamo con il titolare, il signor Andrea Rubino. Benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, il tema di questa puntata è come scegliere l'agenzia immobiliare giusta. In questa puntata parleremo dei criteri da seguire per affidarsi a un professionista competente e affidabile. Andrea, il mercato immobiliare è sempre ricco di opportunità, ma anche di rischi per chi non sa cosa cercare o come muoversi, vero? Sì, il mercato immobiliare, quindi dell'accomparamento di locazione immobiliare, investe un po' tutti, investe tutto quello che è nell'ambito sociale, perché il cambio di casa o comunque l'acquisto di una casa, la vendita di una casa o l'allocazione è un passo importante, è un passo che si deve fare con la massima sicurezza e massima tranquillità, anche perché per un motivo o l'altro non è che se ne fanno moltissimi, diciamo, di acquisti o di vendite di case, anche perché la società italiana non è un po' come quella americana, dove c'è un grande movimento anche di lavoro, cambiamenti di lavoro, qui diciamo che chi compra casa, non dico che per la vita, però se ne possono fare uno, due, massimo tre cambi. Anche perché considerando che molto spesso si fa accedendo al credito, e questo vuol dire almeno 20 anni di mutuo, 30 anni di mutuo, è difficile che poi ce ne possano creare altri. I rischi invece per chi la vende la casa, quelli di perdere tempo, di perdere soldi, perché magari si sbaglia all'inizio la valutazione? Beh, si pensa che vendere casa sia una cosa semplice, no? Io faccio alcune volte, prendo questa metafora, o meglio, un po' di tempo fa una cliente chiesi, una cliente che era un po' ostinata, che pensava che vendere casa fosse una cosa molto semplice, che con il fai da te poteva fare in maniera tranquilla e sicura. Però io feci questa metafora e chiesi, signora, lei ha un'automobile? E la signora mi disse, sì, ho un'automobile, ma la va a lavare? E mi disse, sì, la vado, dove va a lavarla? E mi dice, no, io vado all'autolavaggio, però lei va all'autolavaggio, quindi diciamo che si serve di una struttura, un service per avere acqua, corrente, diciamo, tutto quello che sono gli strumenti, come l'idropuritrice, o comunque per asciugarla. Se appunto c'è un'auto di un certo livello, di una certa importanza anche economica, che fa, non va neanche all'autolavaggio, ma va a un lavaggio a mano, più accurato, con dei trattamenti, però diciamo che è un discorso a mano e costa un po' di più. Potremmo dire, come si suol dire, che in realtà andare dal direttante costa di più che andare dal professionista. Eh sì, certamente, è chiaro che, questo è una metafora, per cui se uno vuole risparmiare, ha alternativa, invece di andare all'autolavaggio, dove uno c'è i mezzi e il tempo, c'è chiaramente il personale che è super, può risparmiare, va a quei sales service, dove uno trova soltanto i mezzi, ma non c'è neanche il tempo, non c'è il personale, quindi deve lui imbarche a menarsi in questo tipo di autolavaggio e paga un po' di meno. Eh sì, allo stesso tempo però, se decido di vendere casa da privato, e seguo la vulgata che dice che basta mettere due foto su Facebook per vendere casa, dopodiché passano sei mesi, un anno, ho dato una valutazione eccessiva dell'immobile perché ho saputo che la signora di fronte ha venduto a cifre astronomiche che poi tra il pettegolezzo e il telefono senza filo non è mai vero, rischio di rimetterci del tempo e di conseguenza di rimetterci dei soldi. Come si può ovviare? Beh, è chiaro che, ecco, io ho usato questa metafora per far comprendere che se una persona, per, cioè una cosa che può sembrare molto semplice, anche dove le competenze sono anche relative, di lavare un'auto, va bene, e quindi invece uno se deve vendere casa pensa che sia più semplice di lavare un'auto, no, non credo, anche perché occorrono delle competenze ben precise, perché nel momento in cui si vendono a casa innanzitutto occorre fare una giusta valutazione, una valutazione professionale che solo un tecnico esperto, una persona esperta, in questo caso un agente immobiliare esperto, perché dobbiamo anche chiarire, oggi ci sono altri professionisti, in qualsiasi ingegneri, geometri, che possono fare una valutazione prettamente tecnica, sì la possono fare anche commerciale, però ecco, una cosa è l'agente immobiliare che sta nel mercato ora per ora, giorno per giorno, e quindi conosce bene tutte quelle che sono le dinamiche a livello di compravendita, è chiaro che in questo caso, specialmente se è esperto, può dare una valutazione corretta, che è il primo passo per poi dopo mettere in vendita l'immobile, invece ci sono alcuni proprietari che lo fanno in maniera molto superficiale, sbagliando o in eccesso o in difetto, e che a me se fai in eccesso l'immobile rimane lì fermo per molto tempo, e come un prodotto che fa, come si dice, la polvere, dopodiché non attira nessuno, e che costa, e che costa, e che ci sono comunque tasse da continuare a pagare, e oppure per difetto svaluta l'immobile che ci rimette un po' di quattrini, questo diciamo è uno degli aspetti, altro aspetto però che è importante oggi come oggi, è tutto quello che è la verifica, il controllo della documentazione, specialmente per chi vende, perché oggi rispetto anche a 10 anni fa, si allegono agli atti le planimetrie catastali, e quindi oggi ci si accorge anche di quel che possono essere tutte le mancanze a livello catastale, un muro che è stato costruito in più, un muro che è stato tolto, quindi tutte le irregolarità catastali, anche dopo urbanistiche, vengono fuori, e quindi un proprietario deve essere attento su queste cose, quindi deve fare i controlli, che non sono solo controlli a livello di documentazione, ma occorre in molti casi andare a fare una verifica presso l'ufficio tecnico del comune, di Bertine dove è obbligato l'immobile, per andare a fare una verifica su quello che è stato il progetto provato iniziale, e se corrisponde dopo lo stato di ruolo, quindi occorrono delle verifiche, perché se non si fanno queste verifiche, il proprietario che quando vende garantisce la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile, quindi prende un'obbligazione in fronte dell'acquirente, e quindi se non c'è questa regolarità, questo controllo, rischia di essere inadempiente. Va bene, grazie al Presidente Andrea Rubino, Presidente del Rubino Immobiliare per questa puntata, io rimando ai nostri amici e alle nostre amiche, alla prossima!